Il lunedì 26 agosto, buongiorno, il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolise. Come ogni lunedì in apertura c'è direttamente la rassegna stampa. Allora partiamo dal quotidiano online, il giornale del Molise.it, andiamo a vedere, l'apriamo anche alle nostre spalle, l'home page, commissione anticorruzione, minacce di morte al presidente Musacchio, molte le piste da quella malavitosa al gesto di un mitomane, il pezzo di apertura a firma di Pasquale Di Bello, Vincenzo Musacchio, il presidente della commissione regionale anticorruzione, ha ricevuto in puri stili mafiosi una minaccia di morte per sé e la propria famiglia, un campionello d'allarme inquietante che deve far riflettere inquirenti, forze dell'ordine politica e società civile. Sul tavolo più ipotesi compresa quella del gesto di un mitomane, il sommario dell'articolo. Scorriamo in basso e andiamo a vedere le altre notizie. Totaro contro Musacchio in atto di viltà e il commento del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, sullo stesso fatto e sulla stessa notizia, come quello il commento di Gatti, Emilia Erminia Gatti. Musacchio non si faccia intimidire, di brino i nostri valori non verranno sradicati. Questa è la dichiarazione del sindaco di Termoni, minacce a Musacchio. C'è anche la solidarietà poi di frattura del governatore della regione. E dalla regione Musacchio, io e il Corea, ignorati dai politici, infece la sua dichiarazione del professor Musacchio. A Termoni, e qui cambiamo argomento, vince la tradizione, il grazie del sindaco di Brino a pescatori ed armatori, il titolo è riferito alla Sagra del Pesce. Sagra del Pesce ancora pieno in porto per la festa che chiude l'estate. E poi vedete a centropagina le notizie dall'Italia e a destra quelle dal mondo. In PDF andiamo a vedere adesso i quotidiani cartacei che trovate in edicola. Ovviamente la stessa notizia, quella della vicenda Musacchio che trova spazio in tutti i quotidiani regionali. Minacce di morte a Musacchio, il titolo a tutta pagina di primo piano Molise. Da tempo denunce i privilegi della Cassa, la politica esprime solidarietà, frattura, si faccia chiarezza. Recapitata al capo della commissione anticorruzione, una lettera intimidatoria. Da Termoli, Porto Velico, dirigente comunale tecnico Neguai. Questa mattina i due saranno interrogati. Campobasso risse in un bar massagrato di botte il titolare. Picchiata pure una ragazza che riporta la frattura della mandibola. E poi vedete Dario Nero scomparre nel nulla, giovane nigeriano. Da sabato non si hanno più notizie di un 29enne. Andiamo a vedere le altre notizie. Regione Zuccherificio e Gamma, la giunta riparte dalle grandi vertenze. Per l'ex Solagri dal giovedì nuovo vertice con l'Eucata. Iserne, anziana, scippata ieri sera a lungo via Berta. Le hanno strappato Borsa, poi la Borsa si sono dileguati. Qui invece abbiamo le notizie sportive. Coppa Italia di Serie D, Vinci Guerra e Ricamato. L'Agnone stende Lisene a passare il turno. Il club Granata, Coppa regionale. Il Fornelli parte con un tris vasto girare di KO con l'Effici Molise. L'Olimpia Riccia imbriglia. Il Monte Nero è dall'Abruzzo. Soria illumina la vastese. Pari senza reti per il Cupello. Il Real Tigre alza la voce con l'Ortona. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise. Messaggi di morte a domicilio. Il titolo anche qui ha tutta pagina sull'affair Musacchio. Minaccia il presidente della commissione anticorruzione Musacchio. Se parli finisci sottoterra. Il professore di Porto Canone riceve attestati di solidarietà da tutta la regione. A Campobasso e di Sena, gioventù violenta, aggressioni e risse agitano la notte. Competitività. Il Molise migliora e scala 16 posizioni. Poi da Capracotta tutti contro la nuova canonica che oscura la chiesa. Una multa ogni 24 secondi. Il Molise in classifica per questo primato. E poi il caso Napoli-Campobasso in treno. Odissea sui binari. Campobasso ancora fanno il bagno nudi e le amanti li lasciano in mutande. Lo sport. L'Agnone mette le mani sul derby. Vinci guerra e ricamato con le Isernia-K.O. Coppa Italia-Poker per Roccaraminto e Le Gambatesa. Sesto fermato dal Quercus. Pari tra Riccio e Montenero. Fornelli ok. Gran colpo per la FC Molise. Lupi. Oggi parte il raduno al campo Acli. Mercato in fermento. Serie D. Il tecnico Berlinghieri. Al Boiano serve una punta. Vediamo allora anche la pagina dedicata al Molise del quotidiano Il Tempo. Anche qui Miusacchio minacciato dalla Camorra. Il messaggio su una lettera spedita da Bari. Se continui a parlare finisci sottoterra. A questo c'è scritto il presidente del Corea che è il comitato regionale anticorruzione. Sono amareggiato e ho anche un po' di paura. Campobasso 2 milioni per completare. Il terminal bus cerce piccola. I cani da tartufo sostengono gli orfanelli della casa famiglia. E poi abbiamo ancora da vedere quest'altra notizia con titolo Termoli Boom di presenze alla Sagra del Pesce. L'organizzazione della manifestazione quest'anno è tornata alla marineria. Prima di passare ai quotidiani nazionali. Allora vediamo sempre in ambito locale il sagno quotidiano. Quotidiano ovviamente di Benevento. E anche qui troviamo la notizia che riguarda il fatto del giorno, che riguarda il Monise. Minaccia e lettera aperta di Musacchio. Dopo la terza missiva di intimidazione, il numero uno della commissione anticorruzione scrive ai Morisani. Nel Milino anche i familiari del professore. Amaro Sfogos è il resto isolato. Lascio subito addetto. E allora adesso andiamo a vedere i quotidiani nazionali. Partendo dalle prime pagine in formato elettronico. C'è questo titolo in evidenza sul Corriere della Sera. Gas in Siria. Obama preme. La strage e le armi chimiche. Più concreta l'ipotesi di un'azione combinata in questo caso fra Stati Uniti e Gran Bretagna. Mosca dice non ripetere vecchi errori. Ora Damasco apre agli ispettori ONU. Gli USA invece fanno sapere che è troppo tardi. Vediamo adesso anche una notizia che riguarda la politica interna. Letta la crisi ora è una follia. PDL sotto accusa il fronte dei falchi. Dal Corriere della Sera passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Qui il titolo principale è dedicato alla politica interna. Il PDL alla rimbaggio sull'Imu. O mercoledì via la tassa o sarà crisi, dicono dal PDL. Letta replica. Far cadere il governo sarebbe una follia. Brunetta aperte saccomanni, fa le liste buoni cattivi e bufera sulla Sant'Anché. Questa è l'apertura della Gazzetta del Mezzogiorno. Il mattino di Napoli. Imu e statali. Il PDL assedia Letta. Anche qui sostanzialmente questo e questa è la notizia di politica interna che trova spazio. Il centrodestra accelera sulla rottura. Oggi Brunetta pronto a far saltare il decreto sulla pubblica amministrazione. Via la tassa il governo cade subito. Il Premier una follia. Buttare tutto a mare. C'è anche ovviamente un titolo dedicato al Napoli per quanto riguarda la Serie A di calcio. Amsic e Callejon. Napoli che show, ma queste notizie le vedremo meglio sulla Gazzetta dello Sport. Intanto vediamo il tempo di Roma. Apertura politica. Governo appeso all'Imu. Il PDL vuole tutto e subito. Crisi a un passo. Mercoledì il Consiglio dei Ministri decisivo. Scontro Farchi-Colombe. Barretta. Le case di lusso pagheranno. E poi Letta fra i militari in Afghanistan dice andare a votare sarebbe una follia. E ancora nell'occhiello leggiamo non c'è altra maggioranza. Questo ha detto il Premier durante la sua visita in Afghanistan. Per quanto riguarda i giornali in PDF abbiamo ancora l'unità che apre a tutta pagina proprio con le dichiarazioni di Letta. Vedete Letta. La crisi è una follia. Il Premier risponde alle minacce di Arcore. Ma il CAV va avanti. L'Imu o cade il Governo. E intanto il PDL ha lo scontro finale. Ma il partito è spaccato. Nuovi ricatti al Governo. Siamo pronti a tutto per difendere il nostro leader. Dicono appunto dal Popolo della Libertà. Sulla linea dura e rissa fra i BIC accusa Sant'Anché. Così sfascia il centrodestra, centropagina. Poi leggiamo quest'altro titolo. Ecco chi pagherà la guerra di Berlusconi. A rischio cassa integrazione in deroga, credito alle imprese, stabilizzazione dei pregati, taglio alcune o fiscali, intervista a Poletti. Un danno far cadere Letta. E allora lasciamo i quotidiani in PDF. Per tornare a quelli in cartaccio andiamo allora a vedere La Repubblica che invece apre con l'intervista a Epifani, il segretario del PD. Epifani a Berlusconi basta ricatti. Voteremo sia la decadenza ma il PDL rilancia. Mercoledì via L'Imu o è crisi. Intervista al segretario PD. No a qualunque salvacondotto. Letta evitare autolesionismo. Lupi uscire dalla guerra dei vent'anni. Bufera sulla Santa Anche. E a centropagina vedete il dubbio dei mercati. Italia a rischio spread. La stampa Letta. La crisi ora una follia. Anche qui le dichiarazioni del Premier. Mercoledì il decreto sull'Imu. Fassina dice non ci sono soldi per abolirla a tutti. Giorno dopo il Gran Consiglio di Arcore scoppia la rissa nel PDL. Berlusconi lascia aperto ogni spiraglio. A centropagina il grido di dolore di Tyson. Sto morendo ha fatto molto scalpore. L'intervista in tv dell'ex campione dei pesi massimi di Pugilato che dice sono devastato da alcol e droga. Messaggero. Il PDL via L'Imu o subito la crisi. Abolizione della tassa sulla casa a mercoledì Consiglio dei Ministri. Oggi si annuncia battaglia sul decreto per la pubblica amministrazione. Il PD dice non ci sono risorse per tutti. Letta, far cadere il governo è una follia. Il Colle invece invoca responsabilità. Centropagina. Tribunali scattano i tagli. Soppresso una sede su due. Spariscono 947 uffici giudiziari. Il Ministro Cancellieri dice nessun rinvio. Sole 24 ore del lunedì. Questi temi trattati, casa, debiti pubblica amministrazione, fisco e lavoro, i nodi sulla strada della ripresa, tra i muive e risorse per una CIG, per la cassa integrazione, una partita che vale fino a 6 miliardi. L'instabilità politica mette a rischio una serie di scadenze importanti. E poi come ogni lunedì c'è spazio alle notizie per gli enti locali, in particolare per i comuni. Rebus, dettagli alla spesa, Milano deve sfoltire 231 milioni, a Roma immobili nel Miniro, nuovo sistema di calcolo della spending review e sui bilanci l'incognita delle tariffe locali. Il giornale invece sceglie come spesso avviene una apertura diversa. La crisi di governo a sinistra, coda di paglia. Chiede responsabilità al PDL ma fugge dalle proprie, non rinuncia all'alleanza con i PM. Sull'Imu il PD nicchia, il centrodestra tiene duro. Centropagina per la Bonino, un flop tira l'altro, dai Marò al pasticcio Cazzaco. Sfortunato è ma Bonino, 65 anni, ministro degli esteri del governo Letta, in pochi mesi ha collezionato infortuni e brutte figure diplomatiche. Almeno questa è la lettura che dà il giornale. Il caso Conti Salati, ma che super scontrini e legge del mercato. L'intervista Savilis, ora l'Egitto è libero dalla dittatura e qui siamo in politica estera. Chiudiamo i quotidiani con la Gazzetta dello Sport. Allora, nel fine settimana, l'inizio del campionato di Serie A. Ovviamente i titoli sono tutti sulle partite, sui risultati. Partiamo dal Napoli. Che Napoli, maestro Benitez, scatena Amsic. Vittoria dei partenopei in casa alla prima. Scatto Mazzari, vittoria anche per l'Inter. Il tecnico toscano debutta con un 2-0 sul Genoa. Primo tempo senza guizzi nella ripresa con i carti. Covacic e Taider, le cose migliorano. Reti di Nagatomo e Palassio. Moratti e To. Vediamo per quanto riguarda il mercato. Le altre. La Roma di Carsia parte bene a Livorno. Lazio, Keikom con Hernanes. La rivelazione. Buffon, Schock, il portiere della Juve. Volevo lasciare la Juve. Conte, ma convinto a restare. Il Bivio. Milan è già sotto pressione. O elimina il PSV o sono guai. E poi il posticipo, quello di oggi. Fiorentina, Catania, Montella, Stufo di Ljajic. Se parte è pronto Rebic. Poi ci sono anche le altre notizie. Motori, Formula 1 a Vettel, MotoGP a Marquez. Alonso rimonta da favola. Super Cairoli, 7 mondiali. Il caso Tyson è al tappeto. Droga e alcol mi hanno distrutto. Abbiamo già visto e letto anche questa notizia. a ciclo, Nibali morde la vuelta e subito maglia rossa. In Giappone vince Innazio Moser. E ovviamente questa è una notizia di ciclismo. Noi ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani. Anche con il primo appuntamento della giornata con l'informazione dei Telemunisi. Il Tg del mattino. L'informazione torna, come al solito, in diretta alle ore 14 con il Telegiornale. A voi tutti grazie per l'attenzione. Buona giornata. A voi tutti grazie per l'attenzione.